In tutta la provincia di Pesaro Urbino si moltiplicano presepi e alcuni di questi sono davvero unici nel loro genere. È il caso di Monte Guiduccio, frazione di Monte Felcino, che da anni ospita il presepe di Gio. Gio come Giorgia Righi, ragazza di Petriano, la cui storia di tenace superamento dei limiti è divenuta prima il libro Vivere Volando e poi il film Ancora Volano le Farfalle. Prima ancora però gli zii di Giorgia hanno creato un presepe enorme senza barriere architettoniche che cambia ogni anno attraverso statuine realizzate in casa e percorsi narrativi che si rinnovano occupando spazi di una rimessa superiori ai 30 metri quadrati. Io e il mio compagno Massimo da una decina di anni abbiamo iniziato quindi a costruire questo presepe che prima era di sopra nella stanza nel salone di mia mamma, poi piano piano con gli anni ci siamo allargati, siamo venuti qua di sotto e qui sono due anni che costruiamo il presepe e siamo partiti quindi dalla Genesi e siamo arrivati alla risurrezione di Gesù. Questo presepe è stato costruito quindi interamente a mano, fatto tutto di cortecce e muschio, tutti i materiali che abbiamo riciclato qua in casa e abbiamo cercato quindi di acquistare il meno possibile solo i meccanismi e poi tutte le altre cose insomma ci siamo adattati con quello che trovevamo qua in casa. Le statue sono state fatte da Mario Raimondi che è un ceramista di Palermo e quindi sono state fatte tutti su misura, io praticamente ordinavo i personaggi perché non esiste niente di simile in commercio e poi lui mi realizzava queste statue ed ha lavorato diciamo un anno per costruire tutte le statue di questo presepe. È gestito da una centralina quindi abbiamo un percorso guidato, parte una rannazione e vediamo a mano a mano tutti i movimenti che partono dalla Genesi con tutti i vari effetti speciali che ci sono durante il giorno, la notte, arriverà la storia della cometa e poi mano a mano fino ad arrivare alla risurrezione. La mia parte preferita è quella tipica del presepe, quindi l'attività, tutte le professioni di una volta dalla lavandaia al contadino al commerciante e soprattutto l'atmosfera di questo periodo del presepe mi piace tantissimo con le luci di notte, la musica soppusa e anche l'alba, il tramonto, i suoni delle campane sono eccezionali. Un presepe spettacolare che si apre alle visite al pubblico. Il percorso di questo presepe dura circa un'ora, percorso guidato, bisogna assolutamente prenotare, quindi chiamarmi un numero. Io sono disponibilissima come orario, quindi dal mattino al dopo cena. L'importante è prenotarsi perché è dedicato un numero ristretto di persone ed è una visita a cui dedicarsi per un'oretta. Grazie. 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 Grazie.